Ciao, sono Eleonora e sono libera dal lavoro dall'inizio di quest'anno. Vi racconto un po' la mia storia. Ho conosciuto Libri dal lavoro nel 2019, grazie a Johnny, e non finirò mai di ringraziarlo. Gli sarò sempre grata per tutto. Mi mangio le mani ancora adesso però per non averlo seguito fin da subito. Sono anche io di Verbagna e qui la maggior parte di ragazzi ambiscono trovare un lavoro in Svizzera. Ho lavorato qualche anno per l'attività di miei genitori in Italia, ma vedendo i conti alla fine del mese ho preferito essere una dipendente e portare a casa il mio stipendio fisso al mese e non avere pensieri di pagare i fornitori eccetera. Allora oltre a questo lavoro che mi impiegava 13-14 ore tra la strada e tutto, trovai un lavoro per il weekend in Italia e guadagnavo 6 euro l'ora. Ma mi resi conto che stavo tirando troppo la corda, il mio fisico non ce la faceva e la mia mente neanche e quindi a un certo punto ho mollato questo secondo lavoro. Mi guardavo un po' in giro e trovai video di Johnny pubblicati su Johnny Cash. Ero incuriosita e non capivo di cosa parlasse Johnny. Per me era un nuovo mondo e ne parlai con i miei colleghi e mi dissero ah sì ma saranno investimenti in borsa, lo fa anche il compagno di quella ragazza lì e al che io pensai ma se lo fa anche il compagno di quella ragazza lì. Perché lei continua a fare questa vita orribile senza neanche informarmi con Johnny, stupidamente. Lasciai perdere e sono andata avanti per la mia strada, alla casa sì l'ho comprata ma facendo un mutuo di 30 anni ci sono andata a vivere io e nello stesso periodo mi sono innamorata. Ad un certo punto con il mio compagno abbiamo deciso di cercare un bimbo e lì mi sono resa conto che stavo facendo lo stesso errore dei miei genitori. Troppe ore fuori casa e cosa cercavo fare un figlio se neanche avevo il tempo per viverlo. Partorisco e mancano due settimane al ritorno al lavoro perché in Svizzera abbiamo solo 98 giorni dopo il parto. Non avevo ancora trovato una soluzione per riuscire a vivermi il mio figlio. Allora avevo provato a guardare in giro, ho fatto un po' di calcoli se convenisse andare a fare le pulizie in giro o cominciare a prendere qualche amica, a stirargli i vestiti eccetera. Mi resi conto che non ne valeva la pena perché portare a casa una cifra decente voleva dire impiegare lo stesso tempo che impiegavo in Svizzera. Un giorno, girovagando su Facebook, come direbbe qualcuno ad Katsum, mi fii Johnny e gli ho pensato la soluzione è Johnny. E quindi ad aprile 2021 decisi di iscrivermi a Liberi dal lavoro e cominciare a capire cosa dicesse realmente Johnny. Dopo due giorni spesi i miei 47 euro per buono sicuro e è una cifra piccolissima rispetto ai miei mille mila euro spesi in dieti dimagranti. La mia unica preoccupazione era quella di non riuscire a capire di cosa parlasse ma effettivamente è un corso stupendo e spiegato benissimo da Flavio. Mi ricordo ancora che guardavo e riguardavo i video, prendevo appunti e sapevo tutto praticamente a memoria ma non avevo il coraggio di iniziare. Cioè io ero già contenta così. Quindi passarono due o tre mesi a luglio 2021 uscì Turbo Bonus. Era un pacchetto di call con Mauro Armenio. Ero sul balcone con il mio compagno e gli dissi Amore tu cosa dici? Lo prendo o non lo prendo? E lui mi disse se pensi che ti posso sbloccare il percorso prendilo. Ti vedo sempre che studi però alla fine non inizi mai. Quindi da luglio posso dire di aver iniziato realmente il mio percorso in Liberi dal lavoro. Il salto l'ho fatto quando ho acquistato Mr. 10k Replay. È stato un percorso che mi ha ampliato la visuale. Dell'arcobaleno non vedo più solo il rosso e il viola. Ora vedo anche tutti i colori al suo interno. Ho capito che è importante non tenere i soldi fermi in banca solo perché li sento al sicuro ma è importante farli lavorare e infatti proprio per questo ho preso Thermo Trading. A gennaio 2022 ho lasciato il mio lavoro e sempre nello stesso mese ho venduto casa. Questa è la potenza di Giovanni. In questo modo posso concentrarmi sul percorso e su quello che mi rende felice, la mia famiglia. A marzo ho acquistato colpo sicuro e sono partita bomba. Fulvio me ne ha fatto innamorare e mi piace da morire perché posso farlo quando voglio e in qualunque momento della giornata e quindi posso decidere io quanto guadagnare. In questo momento sono un aereo in fase di decollo e se questo è soltanto l'inizio chissà cosa mi aspetta. Liberi dal lavoro mi ha fatto capire che c'è un'altra strada oltre a quella di lavorare per tutta la vita per incorrere una pensione che al giorno d'oggi è incerta e ne ho l'esempio con mio papà che ha lavorato una vita intera in proprio e facendo una vita. Non so neanche se posso dirlo. Con la pensione che prende io non riuscirei neanche a pagarmi sei mesi di assicurazione per la mia macchina e quindi a 65 anni deve continuare a lavorare per potersi mantenere. Liberi dal lavoro mi ha aperto la strada che cercavo. Mi ha fatto vedere che esiste un'altra soluzione, che la vita ci è stata donata per godercela e non è possibile che veniamo messi al mondo con il solo obiettivo di lavorare, lavorare e non realmente vivere. Ringrazio Paolo, Flavio e tutto lo staff di Liberi dal lavoro per avermi dato la possibilità di farne parte e soprattutto Johnny, come ho detto all'inizio, che non finirò mai di ringraziare. Grazie a tutti.